Non devi ripetere una volta, non devi ripetere dieci volte, non devi ripetere cento volte, devi ripetere mille volte. Fate un bel punto e ricominciamo. Cosa è questo? Non lo sappiamo. Passa parola. Passa parola. Giacomo, guarda, guarda, sembra molle. La mattita sembra molle, va. Certo che è una situazione kafkiana. Ma precisamente questo kafkian chi è? Il grande Albertazzi, il grande irreprensibile Albertazzi. Mamma mia, non sapevo che facesse anche teatro. I can't believe! Calabango! Calabango! Calabango!